Perchè stai ridendo? Non è possibile. Vogliono che andiamo a cercarli. Queste sono immagini di siti archeologici su tutta la Terra. Antiche civiltà che non avevano alcun contatto tra di loro. Tuttavia, i pittogrammi sono tutti uguali. Mesopotamia, gli Aztechi, dipinti nelle caverne della Francia. Una mappa delle stelle? No, non è una mappa. È un invito. Prometheus è atterrato. Quanto andresti lontano per avere risposte? Fino a che punto arriveresti? Prometheus, lo stai vedendo? Oh mio Dio. Era vero. Che cos'è? Ho ricevuto un ping. Che cos'è un ping? Un click a ore 9. Si muovono? Oh no! Questa cosa... Dobbiamo andarcene! È aperto dall'interno. Ho un uomo qua giù! Ce l'ho nella giusta! Che succede là sotto? Uccidete tutto! Avete sentito? Se non lo fermate, non potremo più tornare indietro. Noi, non potremo più tornare indietro. Un po' di B다리 a casa! Noi, non potremo più tornare indietro! Se avversi, assorzata partito, e di条件 che si muovete dopo, Il penso che aveva fatto scuola, Non potremo pensare che ci vengano, Non potremo più tornare indietro. Il penso che aveva fatto controllo, Se avvice spazzo, poi ossidere in questa attività. i tutti comunque viaggi che si trovata tutto. Keep in un numero di e rosa. La connitata è la nata. Grazie.